Piegamenti delle braccia sulla sedia. Molto bene, tutto il tuo corpo è proteso e stai scendendo e salendo, spingendo sulla sedia. Tieni i gomiti in una posizione comoda. Petto in mostra. Ok, senti lavorare il petto, i tricipiti e tutto il corpo. Quando scendi, sfiora con il pavimento la seduta della sedia. Ok. L'addome è contratto e tutta la schiena offre un buon supporto, un buon fulcro per il movimento delle braccia. Dentro aria quando scendi, fuori aria quando sali. Ok. Ancora. Ancora.